Ciao, siamo qui per il film! Prima, i biglietti! Bene! Entrate e godetevi il film! Non dimenticatevi di me! Oh no! Cosa farò adesso? Ho perso il mio biglietto! Niente biglietto, niente film! È tutto per te! No, no, no! Stai lontano da me! Hai visto cosa ha fatto a quell'eroe? Cosa mi è successo? Dov'è la polizia? Che fifone! Ciò significa che aspetta la Detective Ladybug risolvere questo caso! Bene, bene, vediamo un po'. Ho bisogno di alcuni indizi su cui lavorare. Aha, ecco qua! Hai qualcosa da dire, eh, Ardy? Il mistero è risolto! So esattamente come hai fatto! Odio le battute! Eccoti, Pomni! Ops, dovrei sbarazzarmi delle prove! Non è andata così! Non è andata così! Ops, non è questo! Ecco! Devi mettere giù le armi prima di passare! Ma io sono... Certo, come vuoi! È facile! Ho fatto tutto quello che mi hai chiesto, signore! Beh, spero che il film ti piaccia! Vedi, non ho fatto niente! Ti ho! Questo caso sta diventando sempre più strano! Ecco, guarda, ho abbastanza roba per equipaggiare un esercito! Ok, Ardy, sei libera di andare! Volevo solo aiutarti! Applausi per il solo ed inimitabile! Ma... Sembo che lo spettacolo di oggi si è cancellato! Beh, pensiamo di averla trovata! Pomni, sei tu! Devo salvarti! Farò di tutto per il tuo bene! Che schifo! Aspetta, cosa diavolo è? Penso che abbiamo risolto questo mistero! Tu sei l'assassino! Ed ecco com'è andata! Oggi ho preparato per te un'altra avventura terribilmente pericolosa! Mi dispiace, ma non oggi! Non puoi semplicemente rifiutare la chiamata all'avventura! Ma voglio vedere il film! Ho detto di no! Oh, ferma lì! Per favore, permettimi di spiegare cos'è realmente successo! Sono quasi al mio obiettivo! Non ti dispiace, vero, signor Kane? Mi dispiace molto, ma... Devo vedere quel film! Ha funzionato! Ho questa magia del Digital Circus! È fantastica! E ho le prove a sostegno delle mie parole! Beh, non posso discutere... Sprigati e trova il vero assassino! Farò del mio meglio! Cosa abbiamo qui? Sono Popcorn e... Bad Boy! Cosa ci fai qui? Oh, mi sono perso qualcosa! Oh, il mio stomaco! Quindi ci sei tu dietro a tutto questo! È il momento del tuo interrogatorio! Lady Bug? Cosa stai cercando di fare? Ti farò confessare i tuoi crimini! Ci siamo quasi! Non vedo l'ora! Ciao, Pumny! Essere un cattivo è così divertente! Non ti permetterò di danneggiare la mia città! Non ho paura dei fossili come te, Bad Boy! Oh, come ti permetti! E ora è il momento di trovare un posto dove nascondersi! Cosa dovrei prendere? Oh, sì! C'è solo un piccolo problema! Aspetta! Dammi un momento! Ecco i soldi! Ho solo un dollaro! Mi dispiace per te, Spider Boy! Oh, è la mia occasione! La cena è servita! Buon appetito a me! Deliziosi! Ma ora devo proprio andare! No, nel momento peggiore! Forza, sai esattamente cosa fare! Oh, Pumny, mi hai salvato! Presto, devo arrivare in tempo! Fammi entrare un'emergenza! Apri questa porta in nome della giustizia! Ok, devo... Attenzione! Ehi, non vedi che ho occupato? Mi ha fregato! Il supereroe ha bisogno di aiuto! Guarda, ho cercato di andare in bagno per tutto questo tempo! Beh, questa prova è praticamente inconfutabile! Cosa? Ancora? Scusa, ho mangiato troppi popcorn! Chi c'è? Oh, mi sento proprio bene adesso! Oh, no, non è vero! Voi due siete una causa persa! Va bene, continuiamo l'indagine! What? Beh, è stato emozionante! Oh, cosa le è successo? Ed ecco la nostra principale sospettata! Non puoi scappare dalla giustizia succhia sangue! Ladybug, cosa fai? Ho solo un piccolo test! E adesso? Ahah, lo so! Mi sto avvicinando, lo sento! Ora tocca a te! Mostraci le zanne! Questo è un caso davvero intricato! Chi ha morso Pommy? Il gatto? O la vampira? Dimmi cosa ne pensi nei commenti! La vampira! Sei in arresto! Ok, va bene, ti dirò cos'è successo davvero! Vorrei un biglietto, per favore! Ecco, hai preso l'ultimo! Grazie! Ciao, sono qui per comprare un biglietto! Mi dispiace, ma sono finiti! Ehi, vuoi un biglietto? Allora, ascolta! Accetterò l'accordo! Ora è il momento della parte più emozionante! Goditi lo spettacolo, Pommy! Fammi vedere il tuo biglietto, signorina! Non sai che i vampiri non hanno bisogno di biglietti? I vampiri non hanno bisogno di biglietti! Vedi Ladybug? Non ho fatto niente! Adesso dovrei davvero andare! Pensavi davvero che quello avrebbe fermato un vampiro? Un omicidio nel mezzo del nostro cinema! L'assassino sei tu! E posso dimostrarlo! Cici wow! Non sono in ritardo, vero? Non puoi tenere a bada un clown così facilmente! Oh cavolo, spero di non essere beccata! Aspetta! Sei tu! No, non sono io! Non prendi in giro nessuno! Vattene da qui, sei stata beccata! Niente biglietto, niente film! Adesso io ti... Non provarci nemmeno! Oh, sembra che abbia vinto! Non sono stato io! Devi ascoltare la mia versione della storia! È fantastico! Ma è un po' noioso! Ho ragione! Ehi, non pensarci nemmeno! Oh, stai lontano da me! Cosa pensi di fare? Ok, non lo sopparto più! Oh no, non sto dormendo! Oh, chi c'è lì? Oh, ho davvero dormito tutto il tempo? Immagino che questo sia un vicolo cieco! Allora posso andare, per favore? Dove sono? Qualcuno mi aiuti! Oh, evviva! Pommie, devi dirmi tutto! Cosa ti è successo? Ma dove sono tutti? Ehi, volete divertirvi un po'? Ladybug, è lui! Beh, lo giuro, è stato tutto solo un incidente! Questo sarà uno scherzo memorabile! Omni! No, no! Tutto tranne quello, per favore! È uno scherzo impeccabile! Sono divertente o no? Certo che sì! Era solo uno scherzo, davvero! Ops, stai bene? Congratulazioni per aver risolto questo mistero! Oh, che atterraggio morbido! Ciao, ragazze! Vai a prenderlo, amica! Oh, Ladybug, andiamo a un appuntamento? Stiamo per assistere all'inizio di un matrimonio meraviglioso! Vuoi prenderlo come tuo sposo? Oh, sì! E tu la prendi come tua sposa? Un vampiro! Aspetta, è il nostro matrimonio! Ti amo, Ladybug! Per favore, non dirmi che è un... Sono incinta, tesoro! Cicciwawa, è una notizia meravigliosa! Ho sempre desiderato diventare papà! Adesso siamo ufficialmente una famiglia, amore mio! E sembra che sia ora di andare dalla dottoressa! Non preoccuparti, tesoro, non è affatto spaventoso! Allora, dottoressa, maschio o femmina? Oh, voi due siete nel posto giusto, lo scopriremo! Non vedo l'ora! Sono certo che sarà un maschietto! No, una femminuccia! Un maschio! Oh, va bene, non agitiamoci, ok? Cosa ne pensate? Sarà un maschio o una femmina? Diteci cosa ne pensate nei commenti, ok? Oh, guardate! Oh, che carina! Yeah! Ho fame! La bambina ha fame! È molto gentile da parte tua! Buon appetito! Non lo farò! Ah, lo so! Ah, che profumino meraviglioso! Penso che dovrebbe essere sufficiente! Non preoccuparti, tesoro, papà si assicurerà che tu venga ben nutrita! Dobbiamo davvero farlo, Adam? Ok, signora, niente panico! Mio marito è nuovo in questa faccenda di genitori! E ora via di qui! Bye, bye! Cos'è successo? Oh, super! Quanto sangue! Assaggiamolo! Finalmente ce l'ho fatta! Questo è per te, tesoro! Oh, se insisti! È un po' strano! Oh, è incredibile! Ladybug è diventata un vampiro! Oh, ho un'idea! Questa volta ti sconfiggerò per sempre, piccola peste! Oh sì, eccoci qua! Coprirò tutte le sue vulnerabilità da vampiro! Un paletto di legno! Proprio quello di cui ho bisogno! Faresti meglio a stare attenta, Ladybug! Sto venendo per te! Eccovi, piccioncini! Siete alle strette! Ne sei sicuro, cattivo? Oh, non mi sento molto bene! Ma è stato facile! Adesso tocca a te Ladybug! È giunta la tua ora! Quello è agno? Davvero? È lontana quella roba, mamma! È una specie di scherzo! Fai qualcosa, mamma! Prendi questo! Cicci, wow, abbiamo vinto! Perché non lo mordiamo? Sono sicura che sarà delizioso! Sono zanne? Oh, mi piace come ci si sente! Ouch! No, non farlo! Non sei un'eroina, Ladybug! Oh, oh! Chi? Chi è? Sono solo io! Ti stai comportando molto male, tesoro! Stai lontano! Cosa sta succedendo? Hai bisogno di aiuto, tesoro? Ho già vinto! Cos'è successo? È così strano! What? Oh, siamo riusciti a salvarci per un pelo! Bene, tesoro, dobbiamo fare un po' di allenamento! Devi imparare a usare i tuoi poteri da vampiro! Cominciamo con la super velocità! Vai! Ladybug, Ladybug, Ladybug! Oh, è impossibile! Non preoccuparti, penseremo a qualcosa! È davvero tutto quello che puoi fare, mamma! Oh, ti aiuterò! Oh, impari davvero velocemente, tesoro! Mamma, aspetta! Non è affatto divertente! Oh, che male! Brava, sei un genio! Mia cara! E ora ti insegnerò a levitare! Sono sicura che ce la farò! No, non così! Oh, e adesso? Sto volando! Ma non ce la faccio! Non ti aiuterò, mamma! Sembra che abbiamo fatto arrabbiare la bambina! Dammi solo un minuto, posso risolvere questo problema! Tesoro, è il tuo papà! Ah, tua mamma ha bisogno di aiuto! Certo, papà! Siamo pronte per il decollo, mamma! Sto, sto, sto volando! Ce l'hai fatta, tesoro! Diventerai un vero vampiro in pochissimo tempo! Non c'è di che! Wow! Cosa abbiamo qui? Vieni! Vieni! Mi sembra che dovrò andare dal dentista! Au! Ti preparerò il nido più accogliente, tesoro! Sono sicura che lo adorerai! Oh, qualcuno ha bisogno del mio aiuto! Sto arrivando! Aiuto! Qualcuno mi salvi da questo vampiro! Ah, di nuovo, Adam! Così non va! Cerca di comportarti bene! Mamma, io sono un vampiro! Oh, quindi voi due state insieme? Pensavo fossimo d'accordo che non avresti più fatto una cosa del genere! Ma ero affamato! Ehi, aspetta un attimo! Che ne dici di fare un accordo? Sì, certo! Semplicemente delizioso! Buongiorno, tesoro! Chi è là? Sono io, ovviamente! È una vampira! Qualcuno mi aiuti! Stai lontano da me, succhi e sangue! Prendi questo! Calmati, tesoro! È solo la mia mamma! Esatto! Sono venuta a fare visita! Oh, mi dispiace, allora! Ciao, tesoro! Sono la tua nonna! Ciao, nonna! Buoni! Allora, cosa c'è per cena oggi? Sembra appetitoso! Ehi, niente snack! Scusa, mamma! Pasta ai bulbi oculari! La mia preferita! Sono... Occhi! Buon appetito, Ladybug! Sono sicura che la bambina li adorerà! E non sono sicura che li mangerò! Assaggia, tesoro! Ed ecco che arriva il mio caratteristico tè all'acqua di palude! Mi dispiace, le mie zanne non sono più quelle di una volta! È terribile, nonna! Non mangerò questa roba! No-oh! In questo caso, che ne dici di questo delizioso snack? Sì, certo! Così va meglio! Come hai potuto ingannarci in quel modo, nonna? Oh, no! Oggi è stato assolutamente estenuante! Hmm... I miei genitori stanno dormendo e questo significa che è ora di festeggiare! Hmm... 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 Oh... Non riesci ad addormentarti, eh? Forse una favola della buonanotte aiuterà! Hmm... C'era una volta una cripta oscura e lì dentro viveva un bellissimo vampiro! Hmm... 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 La tua fine è vicina, Ladybug! Sono proprio qui! Hmm... 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 Sogni d'oro, nonna! Aspettavo da tempo questo momento! Brutto piccolo insetto! Oh! Oh! Questo non è sufficiente per fermare Queen Wasp! Ciao, ciao, sanguissuga! Oh! Liberiamoci anche di te, nonna! Oh, cosa? Dobbiamo suonare l'allarme! Mamma, svegliati! La nostra famiglia è in pericolo! Hmm... Hmm... Avanti, Ladybug! Dove ti nascondi? Che ti succede? Mamma, dobbiamo agire! Questa è la fine per te, Ladybug! No, se posso aiutarla! Sei lontana dalla mia famiglia! Come hai fatto? Cos'è successo? Adam, mamma, resistete, vi aiuterò! Abbiamo sconfitto la cattiva! La nostra famiglia è salva! Siamo stati bravissimi! Aspetta, cos'è? È ora di uscire di qui! Non preoccuparti, mamma, ci incontreremo molto presto! Respira, Ladybug, respira! Sono qui per te, tesoro! Bene, ecco che arriva la bambina! Oh, è assolutamente perfetta! Mia è in ritardo! Oh, ecco ti, tesoro! Mamma, papà! Ho delle ottime notizie! Sono stata accettata alla scuola per vampiri! Benvenuti alla festa di gruppo di maternità dei supereroi! Sembra che l'invito di Hello Kitty abbia passato il controllo! Ok! Buona serata, signorina Kitty! Miau! Le prossime sono Miss Dracula e Ladybug! Ecco il mio invito! Aspetta un secondo! Non sei Ladybug! Sei solo una normale nerd! Ehi, non chiamarmi nerd! Pensavi di potermi fregare, eh? Non sono ammessi nerd! Questo incontro è solo per i supereroi! Oh cielo, cosa farò adesso? Oh, poverina! Ehi, sei cattivo! Va bene, signorina, mantieni la calma! Arrabbiarsi fa male al bambino! Ah! Oh, guarda, è la vera Ladybug! Ah, perfetto! Mi sa che sto per partorire! Oh, 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 lo prenderò! Cici, wow, ho preso lo yo-yo! Non posso credere di aver toccato l'arma caratteristica di Ladybug! Mi chiedo com'è! Ehi, non è giusto! Dove siamo? Siamo nella tana segreta di Ladybug! Guarda tutta quella roba! Non è fantastico, Mary? Sì, mi piacciono davvero queste manette! Au! Ehi, stai un po' più attenta! Oh, guarda! Questo è esattamente ciò di cui avevo bisogno! È una guida passo passo per il restyling di Ladybug! Oh, perfetto! Bene, amica, mettiamoci al lavoro! Il primo passo è prenderci cura della pelle! È ora di sbarazzarsi di tutti quei brufoli! Oh, non funziona! Oh, non funziona! Ehi, guarda! È l'aspirapori di Ladybug! Vediamo cosa sa fare questo bambino! Oh! Dai, non farmi aspettare! Cici, wow! Ha funzionato davvero! Wow! La mia pelle è finalmente di nuovo sana! Bene, penso che stiamo facendo buoni progressi! Ora qual è il prossimo passo all'ordine del giorno? Capelli blu! Vediamo cosa ne pensa lo yo-yo! Oh, è proprio come una magia, eh? Puoi aiutarmi a tingermi i capelli? Certo, amica, sono bravissima in questo! Questo colore è perfetto per te! Wow! Dovrei sciogliermi prima i capelli! Ok, sono pronta! Ora è il momento della carta stagnola! Allora, come sto? Finalmente avrò la mia vendetta! Cosa sta succedendo? Oh no! I tuoi capelli! Ok, ragazzi, abbiamo bisogno del vostro aiuto per sistemare i capelli di mia! Più mi piace ci darete, più velocemente ricresceranno! Oh, avete fatto un ottimo lavoro! Sì, grazie per l'aiuto! Bene, perfetti! Oh, cosa sta succedendo? Penso di avere un'idea! Userò i miei yo-yo per arricciarmi i capelli per quel tipico look da Ladybug! Beh, come sto? Splendidamente, no? Ma c'è ancora margine di miglioramento! Questi nastri rossi saranno l'aggiunta perfetta! Fatto! Pronti a incontrare una nuova mia! Devo prendere lo yo-yo di Ladybug! Costi quel che costi! Ma come farò? Oh, lo so! Farò semplicemente in modo che me lo consegnino! È ora di elaborare il piano! Ecco qui! Il mio Akuma infetterà la vampira! La vampira afferrerà lo yo-yo e poi me lo porterà! Questo è il mio piano più sinistro! Ha, 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 ha! Cosa sta succedendo? Devi rubare lo yo-yo di Ladybug e portarmelo! Ho sentito! Li obbedisco, maestro! Cavolo, sono fantastica, vero? Mary, stai bene? Ehi, mi stai spaventando! Mettila! Oh, mi è venuta un'idea! Mi travestirò! Non puoi nasconderti da me! Che idea intelligente! Beccata! Ehi, è scappata! Vabbè, non mi arrenderò così facilmente! Ah, ah! Ho trovato un indizio! Questo percorso mi porterà direttamente da mia! Oh, che schifo! Che odore sgradevole! Oh! È incredibile! Sventato di nuovo! Lo prenderò comunque! Credetemi! Oh, mi fa male la testa! Dove sono? Mary! Oh, sei tornata alla normalità! Cosa mi è successo? Oh, ora ricordo! I tuoi piedi sono orribili! Puzzano così tanto! Puzzano di morto! Andiamo! Non sono poi così male! Invece sì, dobbiamo risolvere questo problema! Oh, ok! E lo yo-yo ci aiuterà, vero? Cici! Wow! Cos'è quella cosa? Perché non sono sorpresa? Sarà piuttosto complicato! Cosa diavolo è quello? Oh! Sai, posso gestire il resto da sola! Oh! È molto più difficile del solito quando sei incinta! Oh, sei divertente! Oh, è così cringe! Ho una soluzione migliore! Queste piccole cose rimuoveranno tutto lo sporco in pochissimo tempo! Oh, è davvero bello! Wow, in effetti avevi ragione, amica! Mi sento così pulita adesso! Oh, sì! Oh! Cos'è tutto quel rumore? Assolutamente no! È il super costume di Ladybug! Devo provarlo! Sono sicura che nessuno se ne accorgerà! Ci vorrà solo un attimo! Oh, certo, amica, vai! Allora, come ti sembra? Molto... Aggraziata? Oh, non mi sta! È così scomodo! Oh! Lascia che ti aiuti! Fai un respiro profondo! Oh, è stata dura! Sto morendo di fame adesso! Oh, che sferzata di energia! Va bene, mantieni la calma e andrà tutto bene! E... Andiamo! Super! Adesso sono la capia perfetta di Ladybug! Ok, abbiamo quasi finito con la nostra lista! Ma che mi dici della maschera? Dove ne troveremo una? Oh, è la beauty box di Ladybug! Oh, vediamo cosa c'è dentro! Cici! Wow! Oh, rossetto rosso! Proprio quello che stavamo cercando! Vai, Mary, puoi farcela! Ci siamo quasi! Ancora un po', eh? Wow! Lo adoro! Ma sai, penso che manchi ancora qualcosa qui! Hai ragione, servono i puan neri! Me ne occuperò io! Yay! Adoro i coriandoli! Ottimo! Ha funzionato davvero! Ma possiamo fare ancora di meglio! Aggiungiamo degli strass neri! Una matita ci aiuterà in modo rapido e semplice! Mi sento così bella in questo momento! Beh, sembra che qui abbiamo finito! Ce l'abbiamo fatta davvero! Vieni qui, amica! Oh, oh! Cosa sta succedendo? Non lascerò passare Ladybug! Oh, oh, oh! Buonasera, signorina! Ciao, ecco il mio invito! Oh, temo che tu non possa passare! Non si porti questo! Ah, ah! Non rinuncerò al mio yo-yo! Mi dispiace, non sono ammesse armi! Allora prova a prenderlo! Oh sì? Certo! Ottengo sempre quello che voglio, signorina! Il tuo yo-yo è mio adesso! Oh no, non lo è! Oh, stupida ragazzina! Pensavi davvero di potermi battere? Oh, 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 oh! Ehi ragazzi, potete dirmi dove si nasconde Papillon? Oh, grazie per l'aiuto! Il mio potere non conoscerà limiti! Ne sei sicuro? Cosa mi è successo? Sono zanne! Sono un vampiro adesso! Sembra che questo sia l'inizio di un'entusiasmante storia d'amore! Ciao amica, come va? Oh, è il ragazzo che mi piace! Oh no, cosa sta succedendo? Ladybug, finalmente ho aspettato questo momento per tanto tempo! Aurora, lo sai che non sei la benvenuta qui! Oh, è tutto quello che sai fare! Ladybug, aiuto! Ma sì, bella è voluta tu! Non sono impressionata! Ma io... Tu? Cosa mi hai fatto? Il mio costume! Beccati questo, stupida! Ok, ti slego! Grazie, sei una grande amica! Ladybug? Ti salverò! Dovresti darti un'occhiata! Cosa farò adesso? Oh, lo so! Userò questi elastici! Ecco qua! A cosa servono? Stai per scoprirlo! E così posso tornare a indossare il mio costume! Tadà! Fantastico, vero? Sì, no! Ho un'idea migliore! Sì, una coccinella è esattamente ciò di cui abbiamo bisogno! Allora, sei pronta? Wow, va molto meglio! Grazie, non ce l'avrei fatta senza di te! Sì, abituarsi a questo look richiederà un po' di tempo! Per favore, dimmi se hai visto questa ragazza! Ladybug, mi manchi così tanto! Oh, andiamo! È disgustoso! Oh, non va bene! Oh sì, una maschera funzionerà! Ma quale scegliere? Sì, questo andrà bene! È ora di fare un po' di magia! Avremo bisogno di prendere alcune precauzioni! Sarà fantastico! Non preoccuparti, so esattamente cosa sto facendo! Abbiamo quasi finito! Questo è il mio capolavoro! Prova questa cosa! Wow, sembra così cool! E adoro il modo in cui brilla! Incredibile! La mia pelle è liscia come la seta ora! Ma ricorda la nostra Nemesi ancora là fuori! La odio tanto! Oh, non ci arrivi, eh? Oh, uno sgabello! Così va meglio! Sei molto più alta adesso! Ad ogni modo, dobbiamo sconfiggere Aurora! Ma prima devo recuperare le mie forze! Sì, continua così, amica! Nel frattempo mi prenderò cura della tua attrezzatura speciale! Disegniamo alcuni petali sul cartone e li ritagliamo! Ecco qua! Rinfrescante! Usiamo un trapano per fare un foro! Così! E ora fissiamo i petali con una vite! Questa cosa sembra bellissima! Grazie! Ma manca ancora qualcosa! Abbiamo bisogno di un pizzico del mio potere! Oh oh! Il mio povero stomaco! Oh oh! Vedere la casa del mio amore mi rende così triste! E il tempo è perfetto oggi! Questo è il mio posto preferito di Wow City! Oh guarda che grazioso bambino! Oh giusto! Dovrei usare il seggiolone! Assolutamente no! Oh quel bovaglino ti sta benissimo! Sei carinissima! Mettila subito! Bene ecco il tuo cibo e qualcosa anche per la tua bambina! Mi stai prendendo in giro! Ehi calmati! Il mondo deve vedere cosa sto mangiando! Cosa sono? Posate per le bambole! Maledette dita corte! Attento tesoro! Potresti tagliarti! Arriva l'aereo! Avanti! Apri la bocca! Credo di non avere altra scelta! Mmm è così buono! Dove sei andata? Che brava! Sto arrivando Ladybug! È così carina! Riceveremo tanti mi piace per questo! Grazie per l'aiuto signora! Oh oh! Sono così in alto! Oh ti aiuterò a scendere! È così umiliante! Bene si parte! Cavolo ha proprio fame! Posso avere il menù? Grazie! Oh mia cara Ladybug! Sbrigati e dammi un bacio! Ehi! Cosa stai facendo amico? Mi dispiace! È ora che vada! Che azioni malvagie dovrei compiere oggi? Oh lo so! Oh la piccola Ladybug lo adorerà! Cavolo sono così intelligente che a volte mi spavento! Sarà meraviglioso! Ecco qua! Bene è ora che mi dia una rinfrescata! Ops! Oh oh! Devo uscire di qui! Oh beh! Parli del diavolo! Bene! Stiamo giù! Che vediamo! Bene allora andiamo al dunque! Ho voglia di una bella doccia calda! Perché non c'è acqua? La doccia si è rotta o qualcosa del genere! Cavolo il rosa è un colore fantastico! Non basta mai eh! Oh cosa c'è che non va in te? Oh credo che oggi non mi laverò! Oh cos'è successo? Non può essere! Il mio piano era perfetto! Mi farò la doccia domani ok? Ai miei occhi! Mi ero tirata in una trappola! Me la pagherai per questo Ladybug! E penso di sapere esattamente come! Adoro le lezioni di botanica! Ehi! Anch'io le adoro! È un altro giorno senza di te al mio fianco! Oh che belli! Guarda! Buongiorno ragazzi e ragazze! Sono la vostra nuova insegnante di botanica! Sembra familiare! E non in modo positivo! Attiviamo lo scanner e... Oh oh! Abbiamo un problema! Guarda! È la nostra vecchia conoscenza! Bene! Allora è il momento di dedicarci alla botanica! Sarà molto emozionante! Oh! È una pianta mostruosa! Non puoi mangiarmi! Non ho un buon sapore! Devo fare qualcosa! Prendi questo creatura! Oh! Penso che tu l'abbia fatto arrabbiare! Oh sì! Vedremo! Mostra loro cosa sai fare! Assolutamente no! Vinceremo noi! Oh no! Mi hai fatto saltare tutti i dentini! Ehi, è la campanella! Andiamocene da qui! Lo prenderemo la prossima volta! Oh! Cattiva piantina! Cattiva! Oh! È così che mi ringrazi per averti dato il dono della vita! Scusa! Hai visto questa ragazza? Oh! 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 Vistelo guardarla! Mi fa impazzire! Altre domande? Ok! Oh! Dove siamo? What? Siamo nell'orrenda pana di Aurora! Hmm! Perdente! Non c'è niente come un caffè caldo per iniziare la giornata! E guarda! È lei! Cerca di fare silenzio! Andiamo amica! È il momento di agire! Oh! Ottima idea! Cosa sta succedendo? Oh! L'ho mancata! Oh no! Voi due! Attenta! Che schifo! Oh tesoro! I tuoi occhi sono particolarmente belli oggi! Pensate di potermi battere, eh? Ci penso io a lei! Vai via! Lasciala andare in questo istante! Cosa sta succedendo? Channuar? Ladybug! Oh! Guarda quei due! Aurora! Ti proteggerò da lei! Oh! Andiamo! Provaci pezzo di spazzatura! È tempo per te di affrontare la giustizia cattivona! Sì! Ti aiuterò! Oh! Oh! Yeah! Siamo una grande squadra! Esatto! Adesso sistemiamo quella stupida pistola! Devo solo sistemare questa cosa qui e... Oh! Ha funzionato! E vai! Oh! Mi sta trasformando! Mi sta trasformando in un mantino! No!